Sono Paolo Pontillo, direttore generale di Siveco Italia, produttori di software per la gestione della manutenzione CMMS, gruppo francese. Noi siamo la filiale italiana, ormai presenti da oltre 25 anni sul mercato italiano. Siamo qui a Maintenance Stories perché come al solito ci piace essere presenti in eventi dove c'è cultura, dove si diffonde cultura, dove si condividono concetti per crescere tutti insieme sulla manutenzione e praticamente come ogni anno partecipiamo, come ogni evento di Maintenance Stories partecipiamo perché vogliamo essere parte del gruppo di cultura sulla manutenzione. Grazie